hey ciao a tutti sono kia chan red husky e vi do il benvenuto in questo mio nuovo video il video di oggi sarà un video breve perché semplicemente vi volevo mostrare visto che non l'avevo ancora fatto e grazie a sara ringrazio lei che mi ha fatto venire in mente giusto il coach amico della switch infatti io non lo faccio per copiarla però solo che visto che ho comprato la switch giustamente mi piacerebbe avere qualche amico nella mia lista amici della switch come ho sempre fatto sia con tutti nintendo e perché in teoria dopo aggiungendoci se avete anche voi mario carotto deluxe possiamo giocarci insieme faccio qualche partito online sarebbe stupendo quindi lo faccio per questo motivo non per copiare la sua idea perché giustamente ci sta come video l'ho sempre fatto che ho sempre mostrato tutti i coach amico quindi come vedete se i joy con sono scollegati perché appunto se non riuscivo a inquadrare bene lo schermo della switch volete questo è il mio profilo mi chiamo chi a cian giustamente il mio nickname sono offline e questo che vedete sotto il codice amico che è 39 25 52 49 55 91 quindi mi raccomando scrivetemi qua sotto nei commenti il vostro che non vedo l'ora di aggiungervi eh sì che così riempiamo un po questa lista amici che non ho nessuno vedete nada de nada dopo qua vengono suggerite le amicizie che quindi si possono fare anche via facebook però non è collegata a internet quindi perché io l'avevo collegata a internet però mio papà ha cambiato la password del wifi quindi ora devo inserire quella nuova non l'ho ancora fatto perché devo ammettere che mi piace molto come console però non riesco a giocare sia nintendo ox la switch quindi l'ho lasciata un po' stare però appena un po di tempo libero ci gioco sempre e presto durante la prossima settimana comunque vi porterò anche un nuovo gameplay di nintendo più che e che finalmente ha trovato il secondo cucciolo ufficiale cioè mi sto trovando da dio l'ho preso prima nel primo pomeriggio e wow è stupendo però non vi spoiler o niente così c'è la suspense e così siete ancora più curiosi dopo qua c'è anche twitter ma devo collegarlo a internet qua aggiunge amico e qua c'è impostazioni dell'utente ecco un attimo che faccio una foto sistemiamo bene intendo che mi servirà per la miniatura eccolo qui come è andata credo di sì credo che l'abbia fatta sì eccolo qui quindi niente ora aspetto i numerosi tanti commenti qua sotto che non vedo davvero l'ora di avervi nella mia lista amici spero davvero che si possa giocare a mare carotto deluxe che mi piaceva e gareggiare insieme a voi e vedere quanto siete bravi io sono bravina dai ma poi perché ci gioco fin dall'infanzia ho avuto tutti i mario ripeto card sia quello per ds dopo anche quello per 3ds io l'ho sempre adorato come gioco e niente quindi io concludo qua il video spero davvero di cuore che sia piaciuto e spero che mi aggiungiate davvero in tanti ragazzi mi piaceva un sacco mi piaceva un sacco mi piaceva un sacco si arricchiamola questa console vabbè io concludo qua il video appena di concludere il video volevo ricordarvi che se non siete ancora iscritti mi raccomando correte a farlo cliccate qua sotto il pulsante iscriviti e attivate molto molto importante la campanella lo ripeto sempre e spero che lo facciate che così ogni mio nuovo video vi arriverà la notifica e mi raccomando di seguirmi anche sui miei social facebook e instagram i link li troverete nella descrizione e poi anche nell'altro comunque vedete come mi chiamo perché proprio l'ho scritto nell'altro quindi mi raccomando aspetto che mi seguiate in tanti anche lì quindi io ho detto ciò vi do un grosso bacione e vi do appuntamento come sempre a un mio prossimo video ciao ragazzi